Il 21esimo Andi Salerno. Siamo con la dottoressa Leonardo, consigliere segretario di Andi Salerno. Dottoressa, un convegno affollatissimo ma soprattutto ricco anche di eccellenze in sala, anche per informare la platea di una importante legge regionale. Sì, questa è una manifestazione che da anni si svolge in Andi Salerno come manifestazione Andi nella quale da sempre si ascoltano le relazioni di eccellenze e quindi novità nel campo dontoiatrico. Sicuramente si è fatto cenno a qualche novità legislativa, però questo fa parte di competenze di tipo sindacale, burocratico, amministrativo ma sicuramente oggi è una grossa manifestazione in campo culturale tant'è che vediamo anche numerosi sponsor relativamente alle attrezzature che vengono da noi utilizzate. Un dibattito anche molto interessante da sentire i temi dibattuti. Sì, sono temi molto interessanti e per noi odontoiatri anche relativamente alle esigenze e alle richieste che i nostri pazienti hanno relativamente alla risoluzione di problemi funzionali ed estetici. Abbiamo anche festeggiato un presidente che viene premiato come odontoiatra dell'anno. Sì, abbiamo avuto quest'anno l'onore presso la nostra sede di avere un presidente premiato odontoiatro dell'anno perché ha veramente tantissimi incarichi ed è una persona vulcanica che si distingue in tutta l'ambiente, in tutta l'odontoiatria con grande voglia di fare e entusiasmo. Grazie a tutti.